Prima di predicare io sento di dire una cosa perché esiste una differenza tra legge e grazia. Noi non siamo figli della legge, noi siamo figli della grazia e la grazia è capita malissimo perché la grazia non appartiene all'umano, appartiene a Dio. Se qualcuno fa qualcosa deve pagare, non è così? Gesù viene con un discorso che paga lui e è per questo che i cristiani che sono estremamente legalista c'è più facilità a portare qualcuno all'inferno che in cielo, è più facile dire tu vai all'inferno do che pregare per la persona perché noi vogliamo che la persona paghi, vero o no? Ha fatto qualcosa? Deve pagare. Quando Gesù viene con il discorso della grazia noi non abbiamo capito molto bene e una delle cose strane che si parla tanto e su questo parlo velocemente perché è una cosa che deve entrare nel nostro cuore è che quando una persona è usata per fare dei miracoli o per fare o ha una chiesa con 450 membri, 500 membri, 1000 membri, noi pensiamo che automaticamente quella persona è benedetta. Non pensiamo a questo? Qua c'è un grosso sbaglio. C'è due cose che tu devi capire sulla grazia. Prima, ogni miracoli che succederà questa sera qui non è per confirmare che sono un uomo di Dio, è per confirmare la parola di Cristo. Capisce questo? Per questo c'è gente che non c'è carattere nessuno, è in adutereo, è un drogato, predica e Dio guarisce tutti. E tu dici come mai? Jimmy Swaggart, un dei più grandi predicatori che il mondo già ha visto, due anni in adutereo e lui ha raccontato in una testimonianza in Brasile che Dio lo usava dello stesso modo. E tu dici come? Allora Dio parla con lui la prima settimana e dice tu sei nel sbaglio, fermati. Ma sai, lui dice no, no, va bene Gesù, fermo, fermo. Dio manda un profeta, Dio dà sogno, dopo tre mesi Dio non parla più perché lui non ascolta più. Lui vuoi continuare la sua vita doppia. Come non capiamo la grazia? Pensiamo allora Dio si alza in cielo e manda un fuoco. Dio non fa niente. Lui continua a predicare e le persone accettano Gesù, gente guarita e lui pensa allora se Dio mi sta usando può darsi che questo mio peccato non sia così grave. capisce quello che sto dicendo? Allora molte persone saranno salvata, molte persone saranno guarita, lui muore, arriva in cielo e dice ho guarito nel tuo nome e Gesù dice che cosa? Non ci conosco. Ci ho usato ma non ci conosco. Sta capendo quello che sto dicendo? Il testo originale Gesù non ha detto che lui la persona stava dicendo una bugia. No, tu non hai guarito nessuno. No, tu non hai profetizzato. No, hai fatto. Come si chiama in italiano? Mulo. Così che dici? Mulo. Quell'animale, come si chiama? Asino. Aspetta, parla a una persona. Asino. Ti ricorda la profecia dell'asino? Se ti usa un asino? Userà pure io, userà te. Vero? Perché io posso essere pieno di peccato questa sera? Ascolta bene quello che ti dico. Posso essere il peggiore. Perché tu non mi conosce? Tu mi conosce predicatore? Tu non conosce? Tu sei andato a casa mia? Se tu vai a casa mia. Tu devi conoscermi lì, perché la gente, oh, grandi uomini di Dio, tu non lo sai. Vai conoscermi, parla con mia moglie. Sto scherzando. Tutti sì, sì, no. Ma io sono un predicatore. Dio mi ha chiamato per predicare. Predicare per me è la cosa più facile del mondo. Posso predicare tutta la notte. Tu non mi conosce qui, indietro a questo pubblico. Stai capendo quello che sto dicendo? Qui io sono bravo. È la mia chiamata. Tu devi venire a casa mia mercoledì mattina, che già è passata la predica di sabato e di domenico. Tu devi venire e devi conoscermi quando non c'è soldi per pagare affitto. Quello giorno. Qui io sono pieno di fede oggi. Quello giorno non ho fede nessuno, perché noi abbiamo fede per altri, vero? Il figlio di altri sta morendo, Gesù guarisce. Il tuo figlio sta morendo, Gesù. La mia fede dov'è? Vero? L'affitto dell'altro è facile. In nome di Gesù, fratello, ma che mancanza di fede è questa? Arriva tua, tu non dormi. Non è così? Ora, se io sono miserabile, non sono tutto questo. È un esempio. Se non la gente dirà. Cioè, c'è gente che sta assando e andando via. Stai lì. Non andare via. Ma se io fosse un miserabile, adultero, bugiardo, tu che hai preso la macchina, che hai pregato, che è venuta qua, che è venuto qua, ha nel cuore una domanda da Dio, Dio mi userà per rispondere a te. Ma non è perché io sono bravo, ma perché tu sei qui. Quanti stanno capendo questo? Perché se non fosse io sarebbe il cane che sta passando per la strada, perché tu sarai benedetto. Dio tratterà con me dopo. Ma non mi tratterà con me davanti a te. Tu uscirà di qua con la tua benedizione. E' per questo che c'è gente che non c'è carattere che Dio sta usando. Non è per confirmare che quello lì va bene. E' per confirmare la sua parola. Tutto qui. Questo è un concetto che io volevo dire chiaramente. Perché c'è una confusione che se Dio usa vuoi dire che va bene. Non è vero. Dio usa anche un animale per benedire. Amen? Per questo Gesù ha detto una parola che nessuno fa attenzione. E' il frutto che fa conoscere la persona. Non i doni. Io mi ne frego, fratello, se tu soffi e la gente vola. Mi ne frego. A me non è importante se tu parli la lingua di angeli, di uomini. Non lo so più. Estraterrestri. Non lo so. L'importante è se tu hai frutto. Perché donne non appartiene a te. È un regalo dell'Espirito Santo. Chi arriverà in cielo e dirà io ho guarito 50? Gesù farà quanti? Tu? Chi? Tu hai guarito nel tuo nome. Il cancro ha sentito il tuo nome e hai sparito. Gesù sono qui. Io ho salvato più di mille. Tu hai salvato. Ah, tu sei andato nella croce, è morto, risuscitato. Sei tu il salvatore. Tu non hai fatto niente. Per questo Gesù ha detto che lì tu sarai chiamato di servo inutile. Perché? Perché stiamo facendo quello che lui ha chiesto. Amen? L'unica domanda che Gesù farà è questa. No, io penso che di Gesù c'è qualche domanda. Due. Credo io. La prima. Tu veramente hai creduto nel mio amore per te? Perché non crediamo. Perché se tu credessi, tu stavi saltando. Tu non avevi più problema. Se tu credessi nell'amore passionale di Dio, questa mattina ho parlato di questo. Chi quando stava perdendo te non ha mandato un angelo, ma è venuto e è morto in una croce. Un amore più passionale di questo non esiste. E per le donne che ancora non sono sposate, che stanno aspettando i principi, che non arriva. No, non arriva. Non esiste. È arrivato perché la ragazza, il principio William. Ma non arriva. Gesù Cristo dice la Bibbia che quando ritorna per prendere la sua esposa, ritorna. Principe è un cavallo bianco. Più di questo non esiste. Ma nella vita reale, se tu stai pregando per un principe, ascolta, non esiste. Il tuo principe è Gesù. Amè? Non sto dicendo che non esiste un marito per te. Esiste. Ma non è un principe. E se c'è qualcuno, qualcun ragazzo qua che sta pensando di sposare, noi dobbiamo acculturare. Culturalmente la Bibbia dice un cavallo bianco che oggi nella testa di una ragazza vuoi dire una Mercedes bianca. Non viene con un cavallo che lei scappa. BMW bianca. Questo è il cavallo di oggi. Arriva con un cavallo e un altro con la BMW per tu vedere chi è il principe. Comunque, io ho dovuto parlare di questo perché è importante. Miracolo non dice chi sei. Amè? 1500 membri non dice che quella chiesa è la più benedetta della città. Può essere la più maledetta. Perché se quantità parlasse di Dio e mussulmani vanno in cielo e noi non. Perché già hanno traspassato il cristianesimo da molto tempo. sta capendo quello che sto dicendo? Gesù aveva 12 discípoli. Un giorno io ho detto Gesù da 7 anni sono a Londra. Ho 22 membri nella mia missione. Anche se abbiamo regalato tante altre. Però noi non passiamo di 22. Perché se passa io già comincio a regalare. Dico fa fare un giro. C'è una chiesa bellissima. Vai girare. Comunque 22. Ma un giorno quando ho iniziato il ministerio lì a Londra è successo che per tre anni non passava di sette. Sette che due era mia figlia e mia mole. Sono cinque. Più cinque. Dopo tre anni ero stanco di pregare per loro. Loro alzare le mani e suonare per me. Ho detto Dio sette. Tre anni. Non ce la faccio più. C'è volta pure che faceva pelo. Loro accettavano Gesù solo per... no? Dio mi ha detto ma tu stai bene? Gesù dopo tre anni ha cominciato con 12. Uno si suicida e l'altro dice non lo conosco. E' finito con dieci. Tu hai sette e nessuno si è suicidato. Ho detto no. Eh, entonso. Sta bene. Noi pensiamo che quantità è benedizione. Non è vero. A Gesù a lui piace qualità. Qualità. Amè? Amè. Adesso devo predicare. Apra sua Bibbia. Marco capitolo 7 verso 24 fino verso 30. Aussiamoci un attimo. Poi tu sarai seduto per quattro ore che io predico tanto. Marco capitolo 7 verso 24 fino verso 30. E' una storia conosciuta ma che sicuramente parlerà il nostro cuore questa sera. Marco capitolo 7 verso 24 fino verso 30. Dice così la parola. Chiedo scusa a tutti gli italiani. Anche online. Io parlo male italiano per questo sballerò. Sballerò in verbi, provei, sballerò. Per questo non giudicarmi secondo come parlo. Amè? Amè. Se tu non capisci guarda vicino a te. Qualcuno capisce nella frase. Capisci? Allora dice così. Poi Gesù partì di là e si andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno ma non non ha potuto restare nascosto. Anzi subito una donna la cui bambina aveva un spirito immondo avendo dito parlare di lui vene e li si gettò ai piedi. Verso 26. Quella donna era pagana. Siro finisce di nascita e lo pregava di scacciare i demoni dalla sua figlia. Verso 27. Gesù le disse lascia che prima siano saciati i figli perché non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Verso 28. Si signore la rispose ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briote dei figli. Verso 29. Gesù le disse per questa parola va il demone è uscito della tua figlia. Verso 30. La donna tornata a casa sua trovò la bambina coricata sul letto i demoni e il demonio era uscito da lei. Passi adesso in nome di Gesù. Sicuramente tu già hai sentito questa storia di questa donna ostinata. Tutti noi crediamo che Dio può fare tutto. Bene? Noi crediamo non solo che lui ha tutto il potere ma noi crediamo che lui è autosufficiente e che lui è il potere primo. Cioè lui è prima di ogni potere. Capisce questo? Senza lui non esiste niente. Ora noi crediamo che Dio può fare assolutamente tutto ma la prima cosa che voglio che tu capisca è che Dio può ma non può. Perché? Perché la potenza di Dio è sottomessa al suo carattere. Voglio ripetere tu devi capire questo su Dio. Dio ha tutto il potere. Lui può fare tutto vero o no? Questo è vero. Ma lui non può fare tutto perché lui sottomette il suo potere al suo carattere e alla sua giustizia. Per esempio noi stiamo qui soffrendo. Tu hai lavorato. Sei stanco. Italia è in crisi. Europa è in crisi. Era molto più facile. Non è facile venire in chiesa. Prega. Deve esercitare la tua fede. Magari Dio è in silenzio. C'è gente che non sente Dio da molto tempo. Era molto più facile Gesù Cristo soffiare. tutti credevano e andiamo in cielo. Finisce il mondo domani. Perché non fa? Può fare o no questo? Lui può fare. Perché non fa? Perché dobbiamo soffrire? Perché il suo potere è sottomesso al suo carattere e alla sua giustizia. Non sarebbe logico. Per questo lui non l'ha fatto. Per esempio quando mi sono convertito mi hanno dato una Bibbia. Nessuno mi ha detto che io dovevo cominciare a leggere del Nuovo Testamento. Ho cominciato di Genesi. Nel cinque primo capitolo l'uomo già era caduto. Io ho detto no. Cioè abbiamo cominciato malissimo. E poi Dio ha fatto una promessa. Mando il Salvatore. io ho detto va bene. Magari nel prossimo... No. Ho finito il Vecchio Testamento e questo Salvatore non era arrivato. Comincia il Nuovo. Nel migliore lui muore. Io ho detto non è possibile. Cioè sono da quasi 40 ore per leggere tutta la Bibbia. lui nasce. 20 capitoli dopo è morto. Va bene. È risuscitato. Ma perché Dio tu non hai fatto diverso? Dio può fare tutto. Ma il piano di Dio è sottomesso al suo carattere. È molto diverso dal potere dell'uomo. Perché il potere che Dio ci dà, tu non sottometti il potere che tu hai al suo carattere. Tu non fai questo. Per questo potere nella mano dell'uomo diventa una corruzione senza fine. Verda o no? Noi siamo corrutti dalla nascita. Ora, perché sto parlando di questo? Perché c'è cosa che Dio non può fare. Ti dico una cosa che Dio non può fare. Dio non può cancellare qualcosa già fatta. Voglio ripetere. Tu hai amassato una persona. Vieni in chiesa e chiedi perdono a lui. Non ho mai sentito parlare. Magari è successo, ma a me non ho mai sentito. Penso che non è possibile. Magari sbaglio. Che tu si inginocchia e chiedi perdono a Gesù e quando apri occhi sei un giorno prima di quello che crimine. Gesù ha detto, tu hai amassato, ma tu sei venuto da me. Io sono ritornato nel tempo con te. Tu già sentito qualche testimonianza così? No. Tu hai amassato? Hai amassato. Punto finale. Gesù non può cancellare una cosa che tu già hai fatto. A me? Ma lui non ha tutto il potere. Ma questo non sarebbe giusto. Sta capendo quello che sto dicendo? Torna Dio può fare tutto, ma non può fare tutto. Perché lui non fa niente se la sua giustizia e il suo carattere non è coinvolto. A me? Questo è meraviglioso. Perché se tu non capisci questo, tu comincerai a vivere un evangelio di favola. Un Gesù, Babbo Natale. Conosci Gesù Babbo Natale? Sì. Babbo Natale, quello che regala. C'è gente che c'è l'idea di un culto come questo, che Gesù in cielo fa così. Abbiamo un culto nella chiesa del pastore Giuliano. Quanti ragazzi? Gli angeli dicono un sacco di ragazzi. Perché sempre c'è più ragazzi che ragazzi. Verro? Non so perché. C'è tante. Quanti sposate? Poche. Quanti voglio sposare? Tante. Allora facciamo una cosa. Tre matrimoni. Manda. Quello che prende, prende. Noi pensiamo che è culto. Dio manda le benedizioni e tu devi prendere. Questa è una bugia dell'inferno. Culto non è per ricevere. Voglio ripetere, tu non sei qui per ricevere. Tu sei qui per cultuare a Dio. Per dare. Quanti stanno capendo? Perché se non questo posto diventa un posto religioso che tu vieni, ricevi la tua benedizione del Gesù, Bavo Natale, ritorna a casa e la prossima domenica lui c'è un altro regalino per te. No? No. Tu sei qui per cultuare a Dio. Tu sei qui per dare. Amen? Amen. Sarebbe brutto che mia figlia venisse da me. Papà, ti amo, ti amo. C'è 10 euro. Papà, ti amo, ti amo, ti amo. Posso andare in cinema? Cioè, ti amo, ti amo solo per chiedere. E noi facciamo così con Dio, vero? Oh, Gesù, ti amo tanto. Guarissimi, ti prego. Oh, Gesù, ti amo tanto. Mi fai sposare, Gesù. No? Ok. In questo testo che abbiamo letto, vediamo almeno tre cose che sono in potenza divina, cosa che Dio non può fare. Noi vediamo una donna passionale che vince Dio. Questo testo, se tu fai attenzione, noi vediamo una donna disperata che sottomette un progetto divino. Lei ferma Dio. E questa sera tu devi capire che Dio vuoi essere fermato. E molte delle benedizioni che tu non hai ricevute è perché tu non hai avuto il coraggio di fermare Lui. Sta capendo? Tu hai come scontato che Dio ci benedirà, ma questa sera Lui sta dicendo che vuole che tu lo fermi. Tu capirai bene quello che sto dicendo. Aspetta. Questa donna aveva un problema serio. Lei è pagana. Lei è greca, sirofinitia. Esce di casa quella mattina ostinata per ritornare solo se la figlia è guarita. E' interessante che questa donna qua fa qualcosa strano. Prima cosa lei affronta Dio perché la Bibbia dice che Dio era in Cristo riconciliando con sé il mondo. Per questo lei quando ha visto Gesù stava vedendo Dio perché Gesù ha detto io e il padre siamo uno lei affronta Dio senza paura perché voleva la benedizione della sua figlia. Ascolta bene che interessante Dio aveva altri progetti ma questa donna cambia il progetto di Dio. Questo mostra un Dio felice di non riuscire a fare. Tu capirai. Se tu non impara a lottare con Dio tu non riceverai niente. Tu devi capire che non hai scontato niente. Noi già siamo salvati. la grazia di Dio è su di noi ma se vogliamo vedere la gloria di Dio ha un prezzo a pagare. Il prezzo a pagare è fermare Dio. Dio è mio padre ma se io non grido e non metto il mio cuore in quello che sto parlando Dio non fa niente. Sta capendo? C'è gente che sembra pappagallo ripete è come ho detto un altro giorno c'è gente che arriva in chiesa pace 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 ma che è pace? Pace pace? No, una cosa stranissima. Poi io do la mano e dico ciao la persona dice non è spirituale. Il mio ciao è più spirituale che la tua pace 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 pace. Ma cos'è distribuzione di pace? Gesù ha detto che quando tu dici pace la pace scende. La gente neanche ci guarda in faccia pace 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 pace. Allora arrivo io perché uno mi ha detto il pastore si dà la pace quando arriva. Io ho detto allora dà per bene guarda i miei occhi ma non tu dell'altra punta pace questo non è pace tu neanche mi hai visto. Allora se io rispondo ciao non sono spirituale ma la tua pace che pace? Non ho sentito niente. Ma io per dare ciao ci ho guardato nei occhi. Noi confondiamo spiritualità con sta capendo quello che sto dicendo? Ora questa donna qua ha fatto una cosa interessante ha lottato con Dio per lo meno in tre cose Dio perde la lotta con questa donna. La prima cosa Dio perde nel gioco del nascondino. La tua Bibbia è ancora aperta? Guarda che dice Gesù voleva andare lì ma non voleva essere visto per nessuno. la mia Bibbia dice verso 24 Gesù partì di là e se ne andò verso la religione la regione di Tiro entrò in una casa e non voleva fare sapere a nessuno voleva stare solo voleva non essere visto ma non riesce. Guarda che dice ma non ha potuto restare nascosto perché questa donna lo trova. tu puoi immaginare Dio dice non voglio essere visto per nessuno e questa donna lo trova. Guarda che interessante che cosa meravigliosa Dio dice non voglio essere visto e la Bibbia dice non hai potuto. Dio che non può. È strano questo. io lo so che c'è persona qui questa sera come ho visto ieri come ho visto questa mattina che non sentono la presenza di Dio da molto tempo che sono in una crisi interna questa mattina abbiamo pregato su Mosè ma non su Mosè ho predicato sul bastone che Mosè portava il segreto è nel bastone che si trasforma in un serpente io ho detto alla chiesa che se tu vuoi lavorare con Dio tu devi affrontare i tuoi serpenti l'impostore che tu hai creato che sai che noi abbiamo creato l'impostore tutti noi da quando siamo nati da quando la nostra mamma ha detto fai il bravo questa è la parola più strana che esiste fai il bravo come se tu fossi capace di fare e tu ci proverai tutta la vita e sballerai tutta la vita vero? L'Spirito Santo entra e dice non fai il bravo più lasciami lavorare perché se tu vuoi fare il bravo tu non riesci nessuno qui riesce a fare il bravo una volta l'Spirito Santo mi ha detto tu sarai giudicato non per quello che hai fatto ma per il motivo che hai fatto per questo quando io ti abbraccio Dio non mi giudica per l'abbraccio mi giudica perché ti sto abbracciando così è duro poteva essere solo l'abbraccio ma Dio dice no voglio capire perché perché se tu abbracciando questa persona perché lo ama va bene ma se dentro di te tu stai abbracciando perché vuole qualcosa di questa persona ti sarò giudicato lì tu sarai giudicato per quello e qua non c'è nessuno santo c'è un santo qui io non sono ora io lo so che molti di voi non sta riuscendo a trovare Dio come voleva e una delle cose che mi stanno scrivendo e stanno parlando in questo viaggio è che un tempo Dio si è fatto vedere ma adesso no questa donna ha trovato un Cristo che voleva stare solo a casa non voleva essere visto ma non è riuscito io devo capire perché perché questo ci aiuterà a trovare Dio la seconda cosa Dio perde nel pianificare la sua strategia Dio in Cristo era qui per predicare l'Evangelo solo agli ebrei non ai pagani questa donna dice la Bibbia è una pagana lei viene entra Dio ha un progetto ma questa donna fa Dio cambiare il progetto lui non poteva guarire i pagani ma questa donna ha detto non esco di qua tu devi guarire la mia figlia è indemoniata non importa se tu devi dare i panni ai figli io voglio mangiare la bricciola ma io non esco di qua Gesù se mia figlia non sarà guarita tu sta capendo è diverso dalla preghiera nostra Gesù tu ci sei no ok vero la preghiera prima di dormire già visto tu cominci una ragazza mi ha detto pastore io prego prima di dormire sempre è così profonda la preghiera che io durmo già comincio Gesù ti amo finito solo l'altro giorno questa donna ha detto non importa se tu hai un progetto se tu hai un'agenda non importa se il tuo progetto tu devi pregare a predicare ai pagani tra 50 anni io voglio che tu cambia la mia vita molte volte noi prendiamo la vita sai come come hinduisti hindu sai cos'è hindu è una religione interessantissima fa ridere proprio io a Londra c'è un sacco di hindu hindu usano quella cosa già visto quello punto qua dipendendo del colore è sposato non è sposato e loro hanno una cosa che si chiama karma già sentito parlare nel karma il karma vuoi dire che cosa tu sei povero disgraziato non ha niente perché nella vita passata tu hai fatto troppo questa deve pagare e va pagando va pagando cioè sbagli per questo hindu sono molto tranquilli perché hanno paura di farti male perché deve pagare nella prossima vita è vero loro credono che l'ultima reincarnazione tua che la parola è reincarnazione sarà in un insetto o un topo o un ragno per questo io sono andato nella nella chiesa non si chiama chiesa nel tempio hindu quando arrivo che cosa vedo camminando sembrava gatti ma non era i gatti si scappano topi ma giganti una cosa orribile loro scalzi camminando e io dicevo ma questo è un topo non è un gatto no non è un scoiattolo no è topo e uno mi ha detto non toccare perché può essere mio padre ha detto va bene tu ridi ma l'ignoranza è così grande che quando vado a Londra abito con un indiano con un indiano con un hindu e questo hindu mi ha detto Alessandro la mia casa è piena di ragno non ammassare nessuno può essere un parente ho detto va bene problema tuo però in bagno c'era un agno veramente così facevi schifo cioè fermo fermo e io dicevo stai fermo perché quello faceva paura teno un ragno sono in bagno tranquillo vedo che il ragno comincia a scendere ho detto no comincia a scendere e cominciano a venire davanti a me io prendo le scarpe una volta solo hai preso quell'oragno nella parete lui arriva la sera e dice tutto bene ho detto vado vado a fare la doccia ho detto aspetta ho detto mi dispiace ma credo che ho ammassato la tua nonna oggi è ancora lì in parete schiacciato lui mi ha cacciato via di casa ha detto non scherzare poteva essere la mia nonna veramente ho detto mi dispiace noi gli diamo ma c'è credente che c'è questa mentalità hindu del karma mia figlia è nata così morì così ho avuto un fallimento nella mia vita sarò fallito tutto il resto della mia vita ho avuto un matrimonio che non ha camminato adesso devo essere infelice capisce questa mentalità hindu c'è credente che crede più nel karma che l'hindu io ho sbagliato in peccato Dio non mi perdonare mai più io conosco un sacco di gente e vive questa mentalità che se tu sei nato di un modo morirà di quello modo ma questa sera nel nome di Gesù non esiste niente nella vita che sendo maligno non può essere cambiato per Gesù niente non esiste niente che non può essere cambiato per il potere di Cristo Dio cambia la sua agenda il suo progetto il suo piano se tu hai il coraggio di dire non accetto sta capendo sai perché la tua vita è miserabile perché tu hai accettato questo se tu accetta sarà miserabile fino alla morte e arriverà in cielo e dirà Gesù mia vita è stato miserabile tu hai accettato perché non hai gridato perché non hai detto no perché non hai preso la mia parola che noi crediamo perché il pastore predica ma non crediamo non crediamo tu ci credi veramente che lui ha detto che tu sei più che vincitore tu credi in questo e allora perché cammina come un falito Dio mi ha mandato a dire o tu grida e crede o sarà infalito prima di gridare perché tu già non crede in quello che apre la tua bocca sta credendo e sta capendo quello che sto dicendo questa donna una pagana sta insegnando a noi credente arriva da Gesù e dice di quattro non esce mia figlia è malata sarà guarita per te la terza cosa che mi insegna qui Dio non perde solo nel nascondimento e neanche solo nel progetto e piano ma perde anche nel discorso con quella donna Dio parla bene ma quella donna ha parlato meglio Gesù entri in un discorso e non riesci a uscire Gesù dice non posso guarire la tua figlia non posso prendere il pane dei cagnolini non posso fare niente il testo di Matteo quindi ti dice che la reazione di Gesù è stata donna grande è la tua fede io non lo so se tu già hai litigato con Dio io già tu no mia mamma mia mamma ha litigato con Dio tante volte quando mia mamma prega e comincia a gridare Dio risponde io penso che quando mia mamma comincia a pregare Dio in cielo dice è lei benedice vede cosa è vede cosa vuole e benedice veloce che non ce la facciamo perché mia mamma quando prega prega su serio grida la conversione di mia mamma lei si chiude in camera e grida io fuori ho detto Dio se io sono te io l'ho amasso adesso io non ho mai visto nessuno gridare con Dio ma mia mamma ha ricevuto la salvezza questa donna ha ricevuto la guarigione della figlia perché noi non abbiamo capito che dobbiamo entrare in lotta e dobbiamo pregare veramente non questa preghiera che facciamo mi sto parlando combattere inginocchiare e dire addio io non esco di qua David David Yongisho già sentito parlare pastore della più grande chiesa del mondo che non è la più grande chiesa del mondo adesso perché la chiesa in Nigeria mi sembra nell'Africa 4 milioni e mezzo di membri è una città lui il figlio è stato morto piccolo io ho visto la testimonianza del figlio con il padre David Yongisho ha pregato ha inginocchiato ha abbracciato il figlio ha chiuso la porta e ha detto non lascio partire non lascio partire non lascio partire ha gridato per 12 ore il figlio ritorna apri occhi ha detto ma perché non mi ha lasciato andare via io ero in cielo e Gesù mi guarda e dice deve ritornare perché tuo padre non si ferma non ce la faccio più ritorna tuo corpo questo è un tipo di preghiera che dobbiamo cominciare a imparare veniamo in chiesa Gesù benedice non succede niente tu cambia canale comiscai sta capendo? no tu devi vincere nel nome santo di Gesù tu devi inginocchiare e dire Gesù so esco di qua benedetto sta capendo quello che sto dicendo? amè vado veloce questo mi insegna che Dio si lascia vincere se usiamo le armi che lo lasciano vulnerabili io lo so che c'è gente che mi scriverà domani che sta dicendo che Dio è vulnerabile lo so la prima cosa è la perseveranza di questa donna la perseveranza tocca di modo profondo il cuore di Dio la Bibbia dice Matteo capitolo 15 verso 22 apri la tua Bibbia perché Matteo racconta questa storia da un modo un po' diverso molto bella di questa donna Matteo capitolo 15 verso di numero 22 guarda che interessante e ecco la donna cananea di quei loghi venne fuori e si mise a gridare Matteo racconta un'altra parte della storia la donna non solo arriva a Gesù ma arriva gridando e lei grida che cosa abbi pietà di me signore figlio di Davide mia figlia è gravemente attormentata da un demonio tu puoi immaginare Gesù camminando e quella donna indietro gridando abbi pietà di me figlio di Davide mia figlia è posseduta se fossi io e te la reazione era uguale a quella che ha avuto i discípoli guarda che interessante verso 23 ma Gesù non gli rispose parola i suoi discípoli si avvicinarono e lo pregavano a Gesù dicendo mandala via perché grida indietro tu sta capendo Gesù camminando i 12 discípoli lì questa donna che non si ferma di gridare Gesù figlio di Davide abbi misericordia di me non è che i discípoli hanno detto facciamo una preghiera per guarire questa donna no Gesù per favore manda via non si ferma di gridare tu sei Gesù tu sei il grande messia di Israele questa donna sta portando la testimonianza non è va bene così guarda che interessante lei veniva per il cammino gridando arriva a un punto che neanche Dio riesce a scappare del grido di quella donna sta capendo quello che ti dico Dio vuoi ascoltare la tua voce oggi tu grido questa gente che insiste con Dio che lotta contro un dolore un fallimento che insiste con tutte le forze Dio non riesce a scappare tu non sta ricevendo il tuo miracolo perché la tua preghiera non c'è passione e se non c'è passione tu non vuole quello che sta pregando sta capendo quello che sto dicendo mia figlia Milena che è qui è lì che già mi hanno detto due cose come mai tu hai una moglie così bella e una figlia più bella io dico preghiera molta preghiera se tu sei brutto fratello prega e prega per la tua futura esposa non pregare perché se lei prega non ti scegli la tua preghiera il tuo grido deve essere più grande comunque mia figlia Milena quando aveva era nel ventre della madre con sette mesi sette mesi praticamente sta per nascere già è formato già è se succede qualcosa è un parto che si deve fare e la mamma di Milena che succede? mattina presto tutte tutta la la lenzuola era piena di sangue e di acqua ha perso tutta l'acqua sono 4 litri di acqua non è 20 3 litri 4 litri tutto 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 bagnato di acqua e sangue e la pancia è quasi vuota piccola quando ho visto quello ho detto no è successo qualcosa qua siamo andati in ospedale il dottore un grande medico in Brasile fa l'esame e dice mi dispiace la tua fila è morta ho detto morta come? è morta è morta senza aria è morta di mancanza di mancanza di aria l'acqua è uscita la sua moglie ha avuto una piccola emorragia e noi dobbiamo fare un parto praticamente per prendere la bambina morta perché se noi lasciamo lì può amassare pure la tua moglie gli ho detto dottore mi dispiace tanto ma mia fila è viva gli ho detto lo so che è difficile ma è morta gli ho detto lo so che è difficile ma è viva perché? perché un giorno Dio mi aveva detto io ti sto dando una figlia io non sapeva neanche che mia moglie era incinta Dio mi ha dato un sogno che era una bambina e io quello giorno ho dato il nome Milena Dio mi ha detto sarà una benedizione nella tua vita se Dio mi ha detto Dio non cambia idea che c'è profezia che è strana Dio parla lunedì martedì dice no ho pensato bene mercoledì no ritorniamo al primo piano no cambiamo c'è profetta che fa paura no? ora se Dio mi ha parlato Dio non cambia idea vero? Dio cambia i piani ma non ha idea ameno? Dio cambia i piani tu puoi cambiare il piano di Dio ma non hai idea di Lui se Lui ha detto farà ora il dottore ha detto è morte ho detto è viva è viva dottore perché Dio mi ha parlato ah Dio ci ha parlato eh mi ha parlato e come? non ci spiegherò dottore perché non vuoi entrare in una discussione ma ti dico solo questo Dio mi ha detto lei nasce il dottore ha detto guarda ehm Alessandro ti conosco sei che sei bravo sei una buona persona ma questa sera si fa la chirurgia noi dobbiamo togliere la bambina morta io ho detto ok sono andato a casa mi sono chiuso io ho cominciato a gridare come questa donna qua ho detto Gesù figlio di Davide mia figlia tu mi hai parlato io non ci ho chiesto niente tu mi hai detto lei non muore allora porta io ma non lei lei non è neanche nata io già sono vissuto ho pregato ho pregato io ho pregato io ho gridato io ho gridato io ho gridato perché Dio ascolta delle preghiere e non ascolta altra perché Dio ascolta passione Dio ascolta cuore non bocca quello giorno Dio ha ascoltato il mio cuore arrivo in ospedale il dottore è già preparato per la chirurgia mi ha detto stiamo per andare per fare la chirurgia ho detto nessuno fa niente se non fa prima un esame io voglio sapere se non c'è veramente acqua voglio sapere se mia figlia è veramente morta tu non puoi aprire per fare una chirurgia una cesarea no? che si chiama? senza fare l'esame ma già abbiamo fatto 20 esami è morta è morta già da 18 ore io ho detto è viva lui ha fatto un esame ha fatto il secondo esame e mezzanotte mi chiama e mi dice abbiamo un problema e ho detto quale? è viva è viva non sappiamo dove abbiamo sbagliato cioè l'acqua è lì è viva e la bambina viva c'è battimento cardiaco c'è battimento cardiaco è viva allora per 24 ore la tua moglie deve stare qui perché non abbiamo mai visto una cosa del genere era morta da 18 ore adesso è viva lui ha fatto il parto lui si è convertito a Cristo e anche lui oggi ascolta la voce di Dio perché se tu vuoi ricevere la benedizione di Dio tu devi gridare con passione perché Dio ci ascolterà tu fermi a Dio tu stai capendo questa donna ha fermato Dio mia figlia mia figlia ha 17 anni bella non disponibile non disponibile Gesù sta ritornando in nome di Gesù se tu hai un figlio se tu hai un figlio bello prega per il ritorno di Cristo maranata maranata lei ha perseverato ma la seconda cosa che ha fermato di Gesù è stato un cuore contrito Dio non resiste a un cuore contrito vero? non resiste è irresistibile quella donna ha scoperto un modo di parare Gesù in Marco capitolo 7 25 dice che lei si gettò a suoi piedi non esiste Dio non resiste a un cuore contrito e abattuto lui non sa dire no se tu se tuo cuore è inginocchiato non le tue gambe tuo cuore lui non sa dire no perché lui è tuo padre sta capendo quello che sto dicendo? la terza cosa è che lui e lei ha usato la preghiera e lo pregava di cacciare i demoni della sua figlia lui non solo getta per terra lei non solo grida lei non solo supplica ma lei prega ha potenza o no nella preghiera la quarta cosa lei usa il coraggio lei ferma Gesù ti ricorda Mosè Dio guarda Mosè e dice facciamo una bella cosa Mosè fa morire tutto io comincio un nuovo popolo di te che cosa ha detto Mosè se tu fai questo togli il mio nome del tuo libro tu hai hai coraggio di parlare così con te Mosè si cioè se tu vuoi fare questo prefiro morire quando tu comincerai a pregare di questo modo Dio comincerà a rispondere sta capendo quello che sto dicendo non questa preghiera che facciamo lista di per mercato Gesù benedice questo Gesù benedice questo punto 3 Gesù benedice questo questa preghiera è vergognosa immagina mia figlia papai ti voglio bene papai ti amo tanto papai mi dà io dico cosa che stai parlando sei mia figlia oppure credente che vive con la preghiera di altri conosce questo hai un ministerio sì 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 quale non lo so io ancora sono sotto il ministerio di altri ma in cielo Dio parlerà con te da solo ascolta questa parola che sto dicendo tu arriva sola là non c'è papà non c'è mamà non c'è marito non c'è arrivare in frente a Cristo ha detto aspetta un attimo che il mio pastore sta arrivando parlerà per me là non c'è raccomandazione in Italia c'è questa roba oh Gesù sono raccomandato del pastore non esiste tu sei solo e la domanda di Gesù Cristo è cosa hai fatto con i doni e i talenti che ti ho dato cosa hai fatto che non erano tuoi cosa hai fatto ah io ho studiato 20 anni parlo greco arabraico aramaico eraico ah veramente d'altro giorno una ragazza mi ha detto pastore sono così felice il terzo anno che faccio la scuola di biblica io ho detto terzo anno la stessa cosa sì fa una bella cosa per me per Dio per te stesso fa la valide e vattene ma va a predicare in qualche paese che ha bisogno di qualcuno ma va a parlare di questo Cristo deve imparare che cosa tre anni ascoltando la stessa cosa tre anni parlando la stessa cosa fa la valide e vattene ah pastore io voglio una profecia per la mia chiamata ma teo capítulo 28 andate sta capendo ah pastore tu sei molto direto solo direto sai perché perché tu sta perdendo il tuo tempo sta perdendo il tempo di Dio sta perdendo il tempo di pastore fa la valide un amico mio mi ha detto pastore Dio mi ha chiamato per andare in Africa perché missionario vale andare in Africa non so perché Europa è morta espiritualmente ma loro vogliono in Africa perché metà dell'Africa è quasi tutto credente pastore vuole andare in Brasile non va in Brasile 65 milioni di credenti stai qui che va a fare loro pregaranno per te non tu per loro capisci stai qui Europa è morta vai in Germania predicar le evangelie vai in Germania qua vicino prende un aereo la raia custa 12 euro la raia non è buona esigete 25 arriva lì con la valide e dice Gesù sono qui ah pastore se Gesù non mi vuoi lì tranquilla che lei lui ti porta in ritorno ma tu devi andare sta capendo quello che sto dicendo sempre strano non è strano strano è passare quattro anni in una scola ripetuta e non predicare l'evangelo questo mi sembra strano a me alleluia sto per finire su tutto questo rimane con noi tre lezioni che non possiamo dimenticare prima Dio è inventibile vero qualcuno può vincere Dio nessuno io una volta ho predicato una bugia grandissima che il Spirito Santo mi ha detto dove hai letto è che io penso troppo io ho pensato che la guerra di Satana con Dio io immagino non lo so perché avevo visto un fiume di guerra stellare quello mi è entrato e io per fare un'illustrazione nel sermone che cosa ho fatto ho fatto una guerra stellare con Lucifero e Dio io ho predicato questo e la gente applaudiva non esiste quello che ho detto è stato questo e Lucifero ha pensato sarò più grande di te e Dio era preoccupato chiama tutti gli angeli e ha detto dobbiamo fare un piano e il cielo c'è una grande guerra io immaginavo Gesù che toglie la spada e Satana che lotta finisco di predicare il Spirito Santo mi ha detto dove hai scritto questo solo per sapere io ho detto non c'è Gesù ho usato la mia immaginazione la tua immaginazione ma non è vero questo ho detto no no e come è successo ah tu non lo sai no Lucifero ha pensato e non c'era più finita la guerra dove sono? perché Dio è Dio sta capendo? Dio è Dio nel momento che nel cielo che è totalmente puro un angelo ha un pensiero è finita la guerra non è che Dio si è alzato del trono finito è finito io ho detto ma così non c'è neanche cosa a parlare non parla è finita la guerra Dio è invincibile ma stranamente piace essere vinto chi ricorda della storia di Giacobbe? che storia strana quella lotta con Dio e Dio stava perdendo deve toccare perché Dio ha detto sto perdendo Giacobbe che è strana questa storia strana sai perché? perché Dio piace essere vinto da te perché tu sei suo figlio amè? seconda cosa Dio non cambia ma piace alterare i piani Dio non cambia ma piace alterare lui dice il Signore non cambio ma allo stesso tempo dice se il mio popolo che si chiama per il mio nome prega io cambio il paese ma lui ha detto che non cambia ma se tu prega lui cambia i piani sta capendo quello che sto dicendo? se c'è 10 se c'è 9 se c'è 8 Abramo ha fermato in uno Abramo ha fermato il contagio il numero non Dio l'altra cosa lui non cambia e lui non cambia per un motivo semplice perché lui è Dio ma cambia per un figlio cambia tutto cambia la nazione e cambia tutto per salvare una persona sta capendo questo? e la terza e qua finisco Dio è la propria saggezza ma lei piace essere affrontato per il cuore di una donna che ama un figlio profondamente quella donna è una pagana non ha mai entrato in una sinagoga non ha mai letto la Bibbia ma amava sua figlia e per Dio questo bastava vero? mia mamma ha fatto la preghiera quando ancora non era cristiana io ho fatto una preghiera quando ancora era un estregone e Dio mi ha ascoltato mi piace il testo di Matteo 15 perché mostra un Gesù scioccalo quão grande é la tua fé e per finire Gesù piace giocare nascondendo conosce lo gioco? tu ti nasconde l'altro deve molte persone quando sono convertite e finirò adesso sentono la presenza di Dio ogni giorno vero? ti ricordi primo amore? tu pregava la mattina pomeriggio Dio e già aveva risposto vero? tu senti la presenza di Dio pure caminando per la estrada passa un tempo tu cominci a non sentire pio perché sembra che Dio si nasconde vero o no? o sono solo io sembra che Dio non ti tu vedi in casa tu prega ma Dio si sta nascondendo perché vuole essere trovato ti vuole spiegare mia figlia quando aveva tre anni io jogava con lei nascondendo però lasciava le mie gamba sempre fuori perché lei deve trovarmi che gioco è che mi nascondo che lei comincia a piangere papà papà dove sei? no Dio è la stessa cosa magari tu non li sta vedendo ma lui è qui io mi ricordo io uso l'esempio di Milena perché ce l'ho una figlia un giorno Milena mi ha detto non sto sentendo più la presenza di Dio come prima e una ragazzina di 14 anni dire questo tu cominci a pregare perché ho detto Dio siamo persi qua 14 anni passa 8 ore con quel bando di gente indemoniata in scuola tutti posseduti ho detto questa bambina 14 anni tra poco l'adolescenza sai com'è non senti la tua presenza ma per favore ti fa sentire a lei io ho detto ma Milena tutto a posto tutto a posto ma non è come prima ma tu ami Gesù amo Gesù sono salvata sono battesata nel Spirito Santo ma non sinto la sua presenza più e io pregavo notti giorni Gesù fatti sentire un giorno Milena è nella classe aula di matematica quella noia incredibile e lei sente Gesù qua vicino come se fosse personalmente lei e è come parlasse al cuore di lei sono sempre qui ma non mi faccio sentire sempre ma sono sempre qui e lei ha cominciato a piangere nella classe perché Dio si ha fatto sentire questa sera Dio è qui magari tu non senti magari tu non stai vedendo la gamba fuori per trovare ma quello che Dio sta parlando è comincia a cambiare la tua vita di rapporto con Lui questa preghiera senza passione non arriva neanche qui se tu vuole qualcosa con Dio Dio è un Dio passionale scolta che ti dico tu stava morendo Lui è venuto nella croce è morto per te più passionale di questo non esiste sta capendo questa sera magari ci miracoli che tu già dovevi ricevere da anni ma non hai ricevuto perché tu non hai messo passione in quello che parla ma se metti oggi la gloria di Dio scende e cambia la tua vita perché Lui risponde a passione sta capendo quello che dico ti ricorda 500 aspettando Pentecoste la Bibbia dice che 500 è iniziato è finito con 120 dove è il resto Dio c'è volta che deve stare esito per molto tempo per capire dove è 120 perché Dio risponde a gente con passione seconda cosa se tu senti la chiamata missionaria fa la valide vattene nel nome di Gesù vattene va a predicare l'Evangelio per strada va a predicare e un'altra cosa se tu non riesci a usare la chiamata missionaria per predicare l'Evangelio dentro di casa tua nella tua famiglia e dentro del tuo lavoro tu non sei missionario sta aspettando l'Africa e Dio sta aspettando che tu parli a tuo padre spetterai l'Africa tutta la vita sta capendo il tuo vicino di casa sta andando all'inferno e tu sta pregando per l'Africa predica il tuo vicino di casa chiude le tue nel nome santo di Gesù Cristo io voglio adorare Dio insieme a te io devo fare due apeli molto serio molto serio molto serio perché può cambiare la tua vita può cambiare la tua vita può cambiare il primo appello è per quelle persone che non stanno sentendo più Dio non sentono più la presenza di Dio un giorno ha sentito un giorno ha sentito la voce di Lui ma adesso non sente più e tu passa giorno dopo giorno e tu non stai sentindo più la sua grazia anche se tu sei un credente e tu ama Gesù ma tu non senti più come prima questa sera tu stai dicendo Alessandro io voglio sentire ancora magari non sto vedendo ma voglio vedere magari non sto tocando ma voglio toccare io voglio sentire la presenza di Cristo vicino a me non importa se tu sei credente da un mese o da vinti anni Gesù vuoi farti sentire la sua presenza il secondo appello è per quelle persone che stanno passando alcun problema particolare e questa sera voglio unirsi a me e gridare Gesù figlio di Davide abbia pietà di noi Gesù non ci lasceremo partire se tu non ti benedici Gesù tu non vuoi essere visto ma non ti lasceremo andare via se la tua benedizione non resta con noi io voglio fare un appello alle persone che non vogliono lasciare Gesù andare via più esiste due tipi di credente quello che vengono in chiesa aspettando qualcosa e quello che vengono in chiesa e prendano Dio per questo tu vedi che finisce il culto due o tre dici che culto meraviglioso e c'è gente che dice non ho sentito niente ausiamoci in nome di Gesù tutti noi ausiamoci noi adoreremo a Dio adore con tutto il tuo cuore magari tua preghiera fino a oggi è stata miserabile ti invito a pregare con passione hai un marito non convertito mette passione oggi è senza lavoro mette passione ha un ministerio falito mette passione ha una moglie con problema mette passione ha un ministerio che è finito mette passione oggi ha un matrimonio chiediamo Dio con tutto il nostro cuore con tutto il nostro cuore con tutto il nostro cuore passione 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 ma Alessandra è morta, è morta, Dio risuscita, ah pastore ma non c'è modo? C'è modo, ma è morta da quattro giorni, Lazzaro pure, oggi voglio vedere Gesù guardando te e dicendo, grande è la tua fede, va che la tua figlia è libera, adoriamo con tutto il cuore, adoriamo, adoriamo, benché i miei occhi non possano vederti, ti posso sentire, e so che tu sei qui, benché le mie mani non possano toccare, il volto tuo signo, io so che tu sei qui, il mio cuore sente la tua presenza, perché tu sei qui, perché tu sei qui, posso sentire la tua maestà, perché tu sei qui, perché tu sei qui, il mio cuore può ammirare la bellezza, perché tu sei qui, perché tu sei qui, perché tu sei qui, posso sentire il tuo grande amore, perché tu sei qui, perché tu sei qui, io voglio fare tutti e due appelli adesso, il primo, è tu che non senti più la presenza di Cristo Gesù nella tua vita, io voglio invitare a venire qua davanti, io voglio pregare per te, secondo, è tu che hai qualcosa che non sta funzionando, e tu hai detto, Alessandro, Alessandro, questa sera io voglio mettere passione, ho un matrimonio fallito, ho un figlio sviato, ho una malattia incurabile, ho una depressione, ho un vissio, ho un peccato nascosto, ma questa sera io voglio unire la mia voce a tu e gridare, figlio di Davide, abbia pietà di me, Gesù non ti libererà domani, Gesù ti libererà oggi, io voglio invitare a te di venire davanti, io voglio pregare con te, nel nome di Gesù, adoriamo, in nome di Gesù. Per un momento in tua presenza, per un istante del tuo amore, Alleluia, la scintilla della tua gloria, per un minuto e non di più, che tutto darei, non è importante, chiudi i tuoi occhi, adorare, Lui è qui, quello che io passerò, quanto tempo aspetterò, ho fame di te, la tua presenza, Oh, Alleluia, la tua fragranza, del tuo potere, Alleluia, fame che soffre, che si dispera, e che desiderà più di te. Per un momento in tua presenza, per un istante del tuo amore, una scintilla della tua gloria, per un minuto e non di più, che tutto darei, non è importante, quello che io passerò, quanto tempo aspetterò, quanto tempo aspetterò, ho fame di te, e la tua presenza, e la tua fragranza, del tuo potere, fame che soffre, che si dispera, e che desiderà, Alleluia, grazie a tutti, grazie a tutti.